Un cordiale saluto a tutti, benvenuti da Stefano Ghetti. Torna a migliorare il tempo dopo il passaggio di una perturbazione che su alcune zone della regione ha portato anche piogge piuttosto importanti, benefiche sicuramente molto utili al problema siccità che purtroppo attanaglia tutta l'Italia da ormai parecchi mesi, tutta pioggia veramente molto molto utile. Purtroppo adesso se parliamo di pioggia e di problemi di siccità non se ne vedrà sicuramente per qualche giorno perché adesso il tempo migliora, arriva l'anticiclone in parte anche africano, dunque non solo bel tempo ma anche temperature che torneranno ad aumentare nei valori massimi, probabilmente nei prossimi giorni le colonnine di mercurio riusciranno in alcuni angoli della regione a superare anche la soglia dei 20 gradi. Di notte farà sempre un po' freschino, soprattutto quando è sereno, ma non avremo certo temperature prossime allo zero con il rischio di qualche gelata. Siamo in un contesto ormai primaverile anche se la primavera spesso e volentieri ci riserva improvvisi rovesciamenti di fronte. Comunque per il momento, almeno per i prossimi 3-4 giorni, non si intravedono cambiamenti di nota se non un aumento della stabilità atmosferica e un aumento delle temperature. Per ora è tutto, a più tardi!